Per questo numero dei besti luoghi abbiamo parlato oggi di mancanza di autori in l'alto d'Arao. Qui, se parliamo di deserto medicole, posto che i gabinetti di salute si odono, abbiamo legato l'esempio in Zika, un vero paese che ha visto l'ultimo autore aperto a Ridirada due anni fa e un nemico è stato rimpiazzato. E poi andremo a scontrare l'autore Thierry Daan e in posto che i di boi più di 30 anni ed è l'uno dell'ultimo autore di Uggercondo. Beh, erremo in un'u che può non essere soluzione, ma favorta i generalisti in siloghi rurali o isogno c'è che la popolazione imbetiassai. Sulmer, là, on è nel cabinet medico di Zikavo. Cependant, il n'y a pas di medici a l'heure attuale, ici. Allora, siamo nel cabinet che è dedicato alla medicina di Zikavo. C'è un cabinet, attualmente, che è inoccupato depuis due anni, in modo che il precedente pratico ha quittato la professione. Allora, il y a veramente un'urgenza, ici, nel village, di avere un medicina su place? Allora, il y a, effettivamente, un'urgenza, d'une part, perché c'è sempre bisogno di un medicina quando c'è un'urgenza medica, ma anche perché abbiamo una popolazione che è una popolazione âgica che ha bisogno di essere sicurizzata al plan medico e che non è necessario di avere un medicina su place. Allora, io, non ho trovato di medicina. Comment ça si fa? Le ragazzo sono sicuramente diverse. D'une part, l'attrait du rural per una persona che è in charge di famiglia, che ha una 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 famiglia, che non può trovare su place un bambino, va posare difficoltà. Il y a, anche, dei problemi di loisir che non sono, forsemente, che l'on attend dans le coin. E, anche, delle difficoltà, di quantità, se puoi m'exprimere così, di quantità di demografie che permette di avere una vita professionale a la mesura delle lunghe studi e dell'attente economica anche di un medicina che ha passato lunghe anni a formato il suo art. Voi avete postato una annona per cercare un medicina per la Commune. Cependant, non avete una risposta? Tutto, abbiamo passato una annona in un giornale, un giornale professionale, un giornale che ci ha, bien entendu, diffusato il nostro bisogno. Malheureusement, questo bisogno non è stato sentito che ci hanno fatto l'annone e noi siamo sempre in l'attente di un praticien su place. Eccoci, che ci sono stati 30 anni, che ci sono stati e che ci sono stati uguali. Ci sono stati che ci sono stati. ci sono stati ci sono stati che ci sono stati a tutte le persone a tutto il momento e tutto è meglio. Sopre che oggi non ci sono stati e quindi ci sono stati per pallire questo manco. Ci sono stati che ci sono stati ci sono stati per rispondere alle attenti della popolazione e ci sono stati per rispondere qualità per rispondere alle qualità in particolare quando ci sono che ci sono stati ci sono stati stiamo con noi ci sono stati a disposizione in Ibaezzi. Se non so che rimpiazzamenti, può essere una soluzione alla cortanda per l'ota a pena contro l'esercito migliore. Iniziamo un po' di applicare questa stessa metodo nella nostra città di medicina rurale. Inizialmente, non c'è bisogno di servizi pubblici. Ci sono altri elementi che rendono un'opera attrazione attrazione per un giorno di attrazione. In questo caso, la costruzione di un'agrazione è prevista per farciare la coordinazione di roberta migliore. Se le strutture esigurati, ci sono una sfida maggiore e la verba sempre che le va portare a ente e provisionali in un rurale.